amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive oggi non parliamo di elaborazioni o di macchine in particolare ma vi volevo far fare un giro all'interno del nostro showroom che come abbiamo detto più volte è uno showroom che è in auge da 36 anni quindi in 36 anni abbiamo accumulato oltre appunto a materiale che ci serve per lavorare oggetti o merce che ci serve quotidianamente per lavorare abbiamo accumulato anche una serie di chiamiamoli reperti o oggetti che arrivano o collezionati da me direttamente o regali di nostri clienti e che hanno arricchi molto particolari che hanno arricchito e che fanno appunto la storia di questo di questo di questo showroom allora uno dei pezzi secondo me forti di questa chiamiamola piccola collezione se vogliamo è questo cerchio in key che era montato sulla macchina del mitico airton senna ai tempi in cui correva con la mclaren quindi questo è un pezzo veramente unico e credo sia il pezzo più più importante che noi che noi abbiamo lo tengo veramente in prima fila perché ritengo che senna sia veramente stato uno dei personaggi il personaggio più più emblematico della formula quindi avere un pezzo della sua storia sicuramente quantomeno è un onore parlando sempre di cerchi e di personaggi di formula 1 passiamo a questo abbiamo due di questi cerchi questi sono dei cerchi fond metal che erano montati sulla macchina di riccardo patrese quindi la williams sulla quale ha corso riccardo patrese nella stagione del 83 84 se adesso noi abbiamo gommato il cerchio ma sulla parte diciamo interna del cerchio c'è proprio la scritta col gesso patrese anteriore sinistra anteriore destra abbiamo comunque tutti e due i cerchi di quella macchina anche questo un pezzo di storia sicuramente molto particolare rimanendo sempre nell'ambito della formula 1 abbiamo qua la tuta originale di fisichella chiaramente non col berettino 9 mila giri comunque questa è la tuta originale di fisichella e dietro c'è anche la firma di fisichella all'epoca in cui correva con la benetton e stiamo parlando del fine anni 90 1999 quindi anche questo un altro pezzo di storia sicuramente molto interessante venendo da questa parte abbiamo questo che è un altro pezzo forte della nostra chiamiamola piccola collezione che il musetto anteriore della ferrari di schumacher della stagione 2003 stagione che è stata una delle più belle stagioni della ferrari dove schumacher correva con la ferrari f di 2003 e questo è appunto il musetto specifico di quella macchina e sempre di quell'anno abbiamo un cerchio bbs che è questo sempre di quella stagione sempre appartenuto questo qua un cerchio ferrari non sappiamo se è un cerchio della macchina di barrichello piuttosto che di schumacher comunque è sempre un cerchio storico che al suo senso che al suo senso venendo a cose più particolari abbiamo una vetrina dove ci sono alcuni oggetti veramente unici questo in particolare è il cruscotto di quello che era l'alfa brabham la bt 46 il famoso ventolone in sostanza quindi una brabham motorizzata col motore alfa in quell'anno era stato montato questo ventolone di raffreddamento che poi è stato diciamo squalificato dalla fia sulla quale ha corso nicki lauda nel 1977 sempre di quella macchina abbiamo una serie di pistoni perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere il capo quello che era il capo meccanico della squadra corse brabham quindi aveva conservato alcuni pezzi di questa macchina questi erano ancora i pistoni incelofanati nella carta oleosa quindi pistoni con le le relative valvole e questi sono altri due pistoni della stessa macchina direi anche questi dei pezzi veramente dei pezzi di storia della formula 1 veramente unici nel loro genere qui abbiamo una collezione di vabbè questa è una collezione di marchi diciamo di varie auto più o meno recenti più o meno di valore comunque sono marchi storici e questa è una collezione di contagiri che anche in questo caso piano piano nel corso degli anni abbiamo accumulato e tenuto in diciamo in vetrina venendo ad altri pezzi particolari abbiamo questo che è un volante per chi se lo ricorda delle 131 abart quindi un volante molto particolare una 131 abart degli anni 70 per chi se lo ricorda e in alto abbiamo due cerchi soprattutto quello di sinistra che un cerchio monodado in magnesio che veniva montato sull'omega lotus chiaramente in versione agonistica ecco quel cerchio in magnesio era appartenuto a un'omega lotus anche questa macchina del fine anni 70 macchina molto molto particolare altro pezzo devo dire notevole per quello che ne questo è il muso dell'alfa 33 stradale che ha corso nella targa florio del 1968 con idea ad amici al patente stradale soprannominata da itona e questo è un appunto il muso originale della macchina che poi chiaramente è stata appicchiato è stato sostituito e c'è stato regalato appunto da chi gestiva la parte meccanica di quella macchina era stato buttato in un angolo quasi buttato nel pattume quando abbiamo visto questo l'abbiamo recuperato al volo l'abbiamo ricucito in qualche modo perché è veramente spaccato in tante parti però anche quello pezzo di storia per gli amanti di alfa è un pezzo di storia che non ha valore ultime cose che vi posso far vedere di questa di questa collezione sono questi cerchi questo cerchio qua in particolare che era montato sulla toyota selica guidata da carlo sainz e anche qui si vede appunto il vissuto di questo cerchio probabilmente ha avuto una diciamo appicchiato da qualche parte e il cerchio è stato ridotto in questo senso però ecco devo dire un altro pezzo che ha lasciato il segno sicuramente io direi che abbiamo tante altre cose però questi sono sostanzialmente i pezzi più significativi ci ha fatto piacere e condividerli con voi perché sono delle cose molto particolari alle quali io sono molto affezionato quindi è valsa la pena una volta tanto fare una puntata che non parli sempre che non fosse focalizzata sempre su un aspetto tecnico ma che parlasse appunto di quello che più più che altro è la storia il vissuto di questo marchio io direi quindi che anche per oggi è tutto come al solito mi invito a cliccare sulla campanella a iscrivervi al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo e vi aspettiamo alla prossima puntata un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto un saluto